Da una mia approfondita ricerca, fascicoli, documenti e mappe alla mano, ed in particolare la fascicolazione dell'Agenzia del Territore 2011, in questa risposta dell'amministrazione della provincia dell'Aquila non va assolutamente bene. Il riferimento fornirò a legati video. Si parlano le mappe delle rettifiche fatte dall'Agenzia del Territore dicembre 2011, con l'introduzione in cartografia dei due acquedotti intercomunali rettificati in mappa a Catasto, ma non rettificato al piano di recupero zona D2, foglie 10 e comunico dei mazzi.